Trovo soltanto che ci sia il collegamento funzionante, speriamo di sì, se mi sentite datemi un cenno, tanto aspettiamo che si popoli un secondo il canale. Spero sinceramente stiate bene, insomma che la salute vi accompagni e ci accompagni. Allora, oggi andiamo avanti con queste live, con l'hashtag io resto produttivo, perché vogliamo, al di là di ciò che ci attenderà, anche nel quotidiano portare avanti quella che è la produzione delle nostre attività per quanto c'è possibile. Il digitale può essere una soluzione? Certamente sì, non è però un salvavita temporaneo. Il digitale è quella cosa che ci può aiutare, se cominciamo a costruirla da oggi, a darci risultati nel tempo. È una maratona, come dico spesso, che non finisce mai. In queste giornate assistiamo a veramente pieni di contenuti digitali, webinar, live, di ogni tipo, video in quantità industriale, che insomma rischiamo di portare a collasso la rete. Quello che vi dico è che, come racconta il buon Riccardo Scandellaro, sono in agguato anche i ladri del marketing. Per cui, insomma, digitale sì, digitale con consapevolezza. Costruiamo la nostra reputazione, partendo anche dalla comunicazione digitale. E se mi posso permettere un consiglio, il primo passo che ti raccomando veramente a cuore aperto è la lettura di questo libro, che è Dimmi chi sei, di Riccardo Scandellaro, che ti darà qualche strumento pratico, la dottrina per iniziare a comunicare te stesso al mercato e, insomma, per chi ha già iniziato qualche anno fa, oggi è sicuramente avvantaggiato. Se parti da oggi hai la possibilità, insomma, di lavorare magari un po' di più a partire dai prossimi quattro o sei mesi, se lavori veramente tutti i giorni per comunicare quanto vale. Digitale, però, non è soltanto comunicazione, sono anche strumenti, strumenti pratici che possiamo utilizzare tutti i giorni nella nostra attività. Questo live anche, insomma, è un piccolo canale di informazione per darvi una mano in questo senso. Prima di partire, quindi con i grandi ospiti di oggi che raccomando, ti ricordo che praticamente dopo domani, che è il 26, avremo un altro live che è interessante e dove, che cosa voglio fare? Voglio cercare di rendere il mondo un po' più piccolo e quindi ho coinvolto un agente immobiliare di Londra, uno di Miami, uno di New York, insomma, per farci raccontare come stanno vivendo nel loro paese questa emergenza, che cosa fanno gli agenti immobiliari, insomma, per portare avanti il quotidiano e come il digitale in qualche modo supporta le attività del giorno. Quindi, insomma, dopo domani, sempre alle 14.30 qui su questa fanpage. Allora, partiamo invece con la presentazione dei nostri ospiti. Allora, chi abbiamo? Qui abbiamo Massimiliano Pochetti di Casa Share, abbiamo Federico Pagliuca di iReator, firma digitale, e poi abbiamo Simone Rossi di Gateway, il portale per chi vuole vendere gli immobili all'estero. Ben arrivati a tutti. Grazie. Buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno. Ciao, ciao. Allora, partiamo quindi senza indugi, no? Con un consiglio pratico, insomma, agli agenti che ci stanno seguendo in questo istante. Ecco, come portare avanti le attività da oggi in avanti, in questo momento, insomma, che è abbastanza complesso. Chi è coraggioso che parte? Massimiliano. Federico, Federico. Federico? Vai, dai. Federico Pagliuca, a te la parola. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, diciamo sicuramente questo è un momento difficile, un momento un po' complicato per tutti. Dico sempre, per un agente immobiliare che è abituato a stare in giro, a vedere sempre persone nuove, a creare e fare sempre relazioni, è sicuramente un momento complicato, si sente in una gabbia. Però bisogna ricordarsi che non è un agente immobiliare. Sicuramente una situazione solo per gli agenti immobiliari, è una situazione che ci coinvolge tutti, che ci dà problemi in tutte le categorie. Pensate solo al mondo dello sport, tutto quello che è successo, i posticipi che stanno facendo sui campionati europei, addirittura sulle Olimpiadi. Quindi è un momento sicuramente complicato. Che cosa può fare oggi un agente immobiliare? Come dico sempre, concentrarsi su quello che sa fare meglio. Che cos'è che sa fare meglio? Sa formarsi, sa utilizzare e sicuramente conoscere strumenti digitali. Quindi approfondire magari quelle cose che quando si è presa dalla propria operatività non si riescono a fare. Formarsi, fare role play, studiare, leggere, tutte cose che possono arricchire sicuramente sia a livello personale sia a livello professionale. D'altro canto, come dicevo prima, lo strumento digitale può essere sicuramente un assistente veramente importante, soprattutto in questo momento. Quindi magari dedicare del tempo per conoscerlo, per capirlo e per poi utilizzare al meglio. Questo è quello che mi sento di dire oggi. Grazie, grazie Federico. Simone Rossi, Gateway, portali immobiliari. Allora, insomma, abbiamo raccolto da altri portali. Ho un po' di connessione, l'audio. Ok, mi date un cenno se mi sentite? Io sento bene. Ok, io sento gli altri, ma non Gerardo. Ok, guarda, mi spiace Federico, tieni duro, crederai che recuperiamo. Allora, Simone Rossi, portali immobiliari, come stanno andando, insomma, i flussi di visite, di richieste? Cosa ci racconta la tua realtà? Ma noi siamo in continuo contatto comunque con i nostri utenti, gli stranieri che ci stanno dimostrando tantissima solidarietà e tantissima amore verso l'Italia e ci stanno tutti quanti dicendo che non vedono l'ora che questo periodo finisca per poter comunque alla fine realizzare il loro sogno di acquistare una casa in Italia, di venire a vedere quegli immobili comunque per cui avevano mandato dei contatti e che avevano già preso dei contatti con le agenzie, quindi ci sono molto vicini. È ovvio che è un momento, insomma, nero, è inutile stare lì a nasconderci, è un periodo che, come dicevate prima, coinvolge veramente tutto il mondo, anche perché l'Italia è partita un pochettino prima, ma gli altri paesi purtroppo ci stanno seguendo a ruota. Quindi non nego che c'è stato comunque un lieve calo più che delle ricerche o utilizzo del portale, un pochettino delle richieste. Parlando con loro comunque è più una questione di dire non sappiamo se lavorate più o meno e quindi magari è un po' più la timidezza di non voler disturbare piuttosto che, questo almeno dal feedback che ci danno loro e comunque ha un certo senso. Noi dal canto nostro, oltre a tantissime attività, abbiamo fatto proprio fare dei video da agenzie ai nostri clienti, dei brevissimi videoclip dove comunque dicevano dalla loro voce, con la loro faccia, che stanno lavorando, che sono attive. Quindi non fermarci, l'abbiamo già condiviso, l'abbiamo mandato ai nostri iscritti alla newsletter, insomma l'abbiamo fatto vedere e notificato ai nostri utenti che comunque da questa parte ci sono tantissime agenzie che lavorano, magari in condizioni un po' come tutti da casa, quindi insomma di ristrettezza anche di organizzazione, però ci siamo e questo ha portato comunque anche tanto un feedback di affetto, quindi insomma ci sentiamo, li sentiamo vicini e sappiamo che loro sono tanto innamorati dell'Italia e soprattutto che è una condizione momentanea, ora nessuno sa quanto durerà ma penso che siamo tutti quanti più che sicuri che prima o poi finirà e uno non mette da parte il sogno di acquistare una casa in Italia semplicemente perché c'è stata questa grande botta che prima o poi, ripeto, finirà e quindi tornerà. Nessuno ci ha detto, ho cambiato idea, non voglio più comprare casa in Italia. Questa è una buona notizia. Assolutamente. Allora, intanto prima di passare la parola a Massimiliano, volevo salutare un po' di persone collegate, allora Marco Corradini, Stefano Oriente, Piero Ficarra, Francesco Greco, Francesco Morabito, Max Russo, ciao, Enza Palamito, Nicola Reali, Damiano Losco, Gianluca Pintore, Alessandra Casabianca da Bologna, ciao. Leo Toma, Giovanni Lugli, Marco Caponi, grande Marcone. Sandra Praconini, ciao. Gerardo, un grazie speciale a tutti coloro che ci donano un po' di normalità, assolutamente. Grazie, grazie Sandra. Diciamo che questi interventi servono anche a quello, insomma, per richiamarci ad un quotidiano un po' più sereno rispetto a quello che sentiamo e leggiamo. Elisabetta Mervic, buongiorno a tutti. Adriano Caldiero, Antonio Del Rico, insomma, siete veramente tanti. Adesso arriverò anche alle domande che stanno via via arrivando. Massimiliano Pochetti, dai, allora, una riflessione, un consiglio primo, pratico, agli agenti immobiliari collegati. Allora, mi ricollego ai passaggi che hanno fatto i colleghi. Sicuramente il momento è difficile, ma questo ormai già lo sappiamo. Quindi è passata, diciamo, la prima fase dove non avevamo ben compreso che cosa potesse significare veramente vivere in questo modo. Personalmente, posso parlare personalmente perché non voglio apparire come colui che può dispensare, diciamo, quello che devono fare gli altri, come devono vedere gli altri. Io, come partita IVA, come azienda, affronto e voglio affrontare ogni giorno con il sorriso. Con il sorriso guardando sempre al bicchiere, sempre mezzo pieno. È un momento sicuramente difficile, è un momento che sarà scritto nei libri della storia, quindi stiamo vivendo sicuramente una situazione importante. Però vado a guardare i numeri positivi, vado a cercare quello che c'è di positivo. Il primo è i dati che arrivano da domenica e lunedì, che ci dicono che comunque i numeri, diciamo quelli negativi, si stanno abbassando. Quindi già di questo io sono veramente contento, perché comunque ci danno un po' la misura che i sacrifici che stiamo facendo possano in qualche modo, mi auguro che quei dati siano confermati, che quindi ci possano portare il più rapidamente verso la fine di questo scenario. Uno scenario che secondo me fa acquistare alla gente immobiliare in questo momento un aspetto sociale importante, perché se la situazione è questa, si potrebbe ipotizzare nel medio termine l'opportunità che comunque quantomeno le aziende, i professionisti, magari con delle dinamiche one to one, quindi evitando sempre gli assembramenti, possano ritornare ad incontrare clienti o comunque colleghi. L'idea di rincontrare anche Gerardo di persona, one to one, con tutte le tutele del caso, mi fa veramente piacere. E quindi l'aspetto sociale sotto questo punto di vista dell'agente immobiliare, che potrebbe essere colui che incontra le varie parti, non nell'insieme, insomma mi fa pensare positivo. È uno scenario che è sicuramente interessante. Lato tecnologia, sappiamo benissimo che questo è un momento in cui gli agenti immobiliari possono sicuramente approfondire, studiare e prendere più dimestichezza con tutti gli strumenti che esistono e che possono aiutarli. Nel caso chiaramente nostro, come Casa Share, stiamo spingendo tantissimo gli agenti immobiliari a fare quelle attività di follow up che generalmente si fanno quando si ha tempo, oggi ne abbiamo tanto, e soprattutto stare vicino ai propri clienti. Quindi gestire il parco clienti. In che modo? Non in una modalità classica di vendita, ma sicuramente in una modalità, chiamiamolo così, più di vicinanza, di gestione di un bene che sicuramente, come diceva il collega prima, è un bene che a differenza di un paio di scarpe o di un telefono è rimasto sul mercato. Cioè nel senso che comunque stiamo vivendo uno stop totale e quindi mi aspetto chiaramente nel momento in cui tutto riparte un rimbalzo tecnico, chiamiamolo così. Ok, ce l'auguriamo tutti. Allora, mettiamo subito in sovraimpressione una domanda di Adriano Caldiero. Salve, una domanda come consigliate di comunicare al pubblico in questi giorni? E questo insomma, Adriano, è una domandona, una domandona. Bella domanda. Guarda, consiglio numero uno, guarda, è quello di rispettare le sensibilità anche degli altri. Quindi, usare il telefono, perché no? Cerchiamo magari di non essere eccessivamente push e magari cerchiamo di stabilire una relazione. È meglio chiamare i vecchi clienti e magari cercare di capire come stanno, come stanno vivendo questa situazione. Insomma, dare un segno di vicinanza può essere positivo. La newsletter, consiglio numero due, è un modo, diciamo, per entrare in casa delle persone in punta di piedi. E poi tutti quei canali digitali, da WhatsApp, insomma, in avanti, che puoi attivare per restare in contatto con i tuoi clienti, con le persone. La cosa importante oggi è non dare segni di abbandono, ma di mantenere quella che è la relazione attiva. Questi sono, insomma, i miei tre mantra, ma sentiamo un po' gli ospiti cosa eventualmente possono raccomandarti. Simone, come risponderesti, Adriano? Ma secondo me, come dici tu, Gerardo, le relazioni one-to-one saranno veramente molto importanti. Quindi il consiglio che posso dare io, più che altro, soprattutto considerando il mio settore, quindi quello del mercato estero, io riprenderei contatti con i miei vecchi lead, insomma, quelli più o meno caldi, non punterei alla vendita, perché tanto è abbastanza inutile, però una chiamata per sapere come va, per sapere che ci sei, per sapere che comunque si può continuare a fare delle attività, non lo so, stai ancora cercando, che tipo di immobile stai cercando, posso vedere se c'è qualcos'altro nel database, te lo mando, ne possiamo parlare, magari ne approfitto per approfondire certi argomenti che a te ti possono interessare, ad esempio, non so, proprio pratiche, come funziona poi la procedura d'acquisto di una casa in Italia, magari quando mi arrivava una richiesta, in tempi in cui si lavorava tanto, o facevo una risposta sbrigativa a certi argomenti, magari li lasciamo un pochettino accantonati, questo è magari il momento di approfondirlo, in modo che comunque stringete ancora di più i legami con queste persone. E secondo me fa comunque piacere, ripeto, se non è una telefonata prettamente commerciale dove io ti voglio vendere una casa, in questo momento tenere dei rapporti umani con le persone, dove bene o male adesso tutto il mondo sta a casa, sta a casa in quarantena, c'è chi con la famiglia e c'è chi da solo, o con un'altra persona, quindi comunque una chiamata, una videochiamata per sapere come si sta, per far sapere che ci siamo, raccontare la vostra esperienza, loro vi raccontano la loro, e in più si affronta il discorso, comunque quello di acquistare una casa, che ripeto nel mio settore per gli stranieri è un sogno, che loro non hanno messo via, ce l'hanno ancora nel cassetto, anzi una volta che passeranno anche loro, saranno passate due o tre settimane, dove non metteranno il naso fuori di casa, probabilmente avranno proprio bisogno di vedere, non lo so, delle cose che riguardano il loro sogno, quindi delle immagini dell'Italia, o del paese dove voi avete gli immobili, insomma mandare queste informazioni qua e farli sognare, non penso che ci sia assolutamente niente di male a dire, quando questo tutto sarà risolto, tu potrai venire qua e godere di queste cose, mi sembra un'ottima cosa, a livello generale la comunicazione è proprio di massa, diciamola così, quindi newsletter, quello che dicevi tu, io penso che una comunicazione comunque sincera, e non far vedere insomma che va tutto bene, quando tutti benissimo siamo consapevoli, ma insomma dimostrare che insieme, o pezzo per pezzo comunque si andrà avanti, penso che sia anche un modo giusto per comunicare. Giusto, Federico cosa ne pensi? Ma io l'invito che faccio è non sparire, anzi non sparite, perché in un momento come questo, ed è un momento che sicuramente non è un'inversione di tendenza, non credo che il mercato immobiliare clorerà in termini di prezzi, non credo che il mercato immobiliare si fermerà in termini di compravendite, è un momento di stop, come lo stop dove noi siamo costretti a starcene in casa, ma non dovremmo stare tutta la vita in casa, allo stesso tempo il mercato immobiliare non si fermerà definitivamente. Quindi in questo momento di stop non spariamo, non sparite, rimanete a contatto dei propri clienti, perché veramente chi è motivato oggi a vendere casa, chi è motivato a comprare casa, chi lo era prima del Covid, lo continuerà ad essere anche dopo. Quindi se noi continuiamo ad avere una relazione con questa persona, mi immaginavo la possibilità con un acquirente di fare un tour insieme, magari da remoto, con la condivisione dello schermo degli immobili, la possibilità poi di confrontarsi anche sulla parte di ristrutturazione, piuttosto che di gestione degli immobili in se stesso, quindi riuscire a dare quelle piccole attenzioni ai clienti, che magari nell'attività che abbiamo, da uno spostamento all'alto, da un appuntamento all'alto, in una riunione non riusciamo a gestire, e che invece in questo momento potremo gestire. Quindi non spariamo, non sparite, e cercate continuamente di consolidare ancora di più queste relazioni, che si hanno sia con i clienti venditori motivati a vendere, ma soprattutto anche con gli acquirenti, che sono motivati ad accomprare, e partiranno subito appena il mercato ripartirà. Grazie, grazie Federico. Salutiamo anche, allora c'è Giovanni Elefante, Lino Gulino, Pietro Margiotta, ciao, Ilaria Meani, eccola lì da Arcore, Pietro Corica ancora, Gianluca Pintore, benvenuti a tutti. Allora, qui Adriano ancora dice, non soltanto, cioè comunicazione non solo, dice, in tema degli strumenti da utilizzare, quanto proprio dei messaggi da dare, ma sicuramente, allora diciamo questo Adriano, i messaggi, i messaggi oggi online ce ne è tantissimi, e diciamo che quello che ascoltiamo dai telegiornali, e sui social per la maggior parte, diciamo non sono sempre positivi, non dobbiamo rischiare di essere poeticamente ottimistici, ma dobbiamo anche trasferire un messaggio di sano realismo, cioè nel senso che siamo ormai chiusi in questa bolla da un mesetto circa, non potrà andare avanti per sempre, chi insomma poteva comprare casa a dicembre, come diceva Federico, sicuramente potrà acquistarla a maggio, nel tempo potremmo avere delle ripercussioni sull'economia, ma sicuramente sì, quindi probabilmente un po' di crisi occupazionale, qualche compravendita in meno, forse, però insomma il grosso del mercato resterà, insomma ci sarà sempre qualcuno che vende e che compra, l'importante è posizionarci oggi con messaggi informativi, quindi verifichiamo anche bene le fonti che andiamo a condividere, e trasferiamo diciamo sano realismo, questo anche attraverso i nostri canali social. Massimiliano, ancora sulla qualità dei messaggi? Beh, allora, c'è, sottolineo, a parte che condivido tutto quello che ha detto sia Simone che Federico, c'è una componente che è troppo importante in questo momento, che è la componente psicologica, cioè noi abbiamo veramente bisogno di guardare in positivo, sicuramente per quello che possiamo fare noi, personalmente, poi abbiamo chiaramente bisogno anche di interventi da parte, diciamo come si dice dall'alto, che aiutino sotto questo punto di vista, quindi tutte le previsioni che noi possiamo fare, le possiamo fare limitatamente a quelle che sono le informazioni che in questo momento abbiamo a disposizione, ma sono informazioni che come vediamo giorno dopo giorno cambiano, quindi adesso c'è l'opportunità che l'Europa possa finalmente intervenire sotto certi punti di vista, quindi immettendo del denaro nel sistema, ne abbiamo assolutamente bisogno perché positività va benissimo, però dobbiamo avere la consapevolezza che quando sarà finito poi questo momento, tra virgolette, non ci ritroveremo diciamo in un deserto, permettetemi questo passaggio. Quindi il messaggio che io passerei in questo momento a tutti i miei clienti è quello di assoluta positività, cercherei di dare loro assistenza e cercherei di dare loro una consulenza per quanto riguarda il bene che hanno in questo momento a disposizione, perché era un bene che o era in fase di vendita o persone che vogliono comunque poi acquistare, e quindi cercherei di tenerli, tra virgolette, costantemente informati su quello che è l'andamento del mercato, come sta andando, quali potrebbero essere i scenari, in previsione di. Ricordiamoci sempre che la casa, per gli italiani, è forse l'investimento più importante della vita, quindi in questo momento, più che mai, le persone hanno bisogno anche di consulenza, di consulenza veramente seria. Oltre all'aspetto, ragazzi, psicologico che ci tengo a dirlo, non va assolutamente trascurato. Parliamo con le persone, ci confrontiamo con le persone, cerchiamo sempre di parlare sempre del bicchiere mezzo pieno e di cercare di infondere quando è possibile anche del coraggio e della forza in questo momento, che è molto importante. Sì, è vero, le persone hanno bisogno di normalità oggi, più di ieri, quindi, insomma, se vogliamo, nel frattempo anche con intelligenza e non inondando i social di annunci immobiliari. Magari però, continuare a parlare della professione, no? Continuare a parlare di ciò che eravamo fino a un mese fa e ciò che saremo ancora tra un mese, sicuramente è positivo, andremo magari a contagiare anche in modo un po' più, diciamo così, edificante, ecco, chi ci ascolta. C'è Isabella Baudo, che adesso provo a portare la sua domanda in sovraimpressione, che dice, buongiorno, cosa consigliereste a chi inizia da ora, ma proprio da ora, ad intraprendere questo meraviglioso lavoro come consulente immobiliare e non può muoversi da casa? Allora, intanto, complimenti per il tuo discorso. Complimenti, assolutamente. Isabella, ecco. Allora rimarriamo a settembre, Gerardo. Isabella, io lo posso capire, perché la mia storia personale, quando ho iniziato a fare l'agente immobiliare, iniziai nel 2007, quindi quanto ti posso capire, io provenivo totalmente da un altro settore, quindi che non c'entrava niente con l'immobiliare e non avevo parenti o amici, che avevo agenzia immobiliare e quant'altro, quindi ho iniziato nel momento migliore, quindi ti posso capire, ci vuole tanta voglia, tanta determinazione e sicuramente anche questo è un momento molto delicato, però che si possono celare delle vere opportunità, anche in questo momento, quindi il consiglio che do io è andare a fare sicuramente una programmazione di quelle che sono le attività preliminari di start-up che un agente immobiliare che inizia deve fare e concentrarsi su quelle che in questo momento può assolutamente fare, anzi potrebbe fare anche un po' sfruttare questo momento, la butto lì per fare un po' di storytelling e quindi giocare in maniera scherzosa su questo inizio di nuova professione in questo momento e quindi potrebbe essere quasi un qualcosa di spiritoso, di leggero, di normalità che magari anche il cliente necessita e quindi unire le due cose insieme, mi viene da dire questo. No, no, giusto Federico, sullo storytelling che è importante, insomma, narrare e condividere con gli altri non soltanto le nostre competenze ma anche ciò che siamo, può diventare un pilastro della tua comunicazione Isabella nei confronti del mercato, quindi non c'è momento migliore per iniziare oggi a costruire la tua comunicazione anche online, proprio andando a condividere le tue competenze. Sono ancora pochi quegli agenti immobiliari che hanno una macchina della propaganda, come la chiamo io, e che quindi comunicano con efficacia e con efficienza verso il mercato. Questo potrebbe essere un periodo positivo per cominciare a fondare, ecco, la tua comunicazione e acquisire sicuramente evidenza rispetto anche alla concorrenza. Sandra Pracconi... Scusami, Gerardo, una cosa sola. Possiamo dirlo ufficialmente che Isabella Baudo è il personaggio del giorno. Sì, assolutamente. Esatto, esatto. Alza la coppa. Avrai, guarda, un posto in prima fila anche al prossimo live, Isabella, veramente. Comunterai l'icona, l'icona, ecco, della ripresa dei lavori immobiliari. Ecco, le prossime settimane. Se posso dire una cosa su Isabella? Si muore, vai. Comunque c'è anche il discorso che lei, al contrario di altri, non ha da stravolgere completamente il suo processo lavorativo, perché comunque inizia adesso e può già iniziare in questa condizione. Secondo me quando questa crisi finirà, lei sarà una di quelle agenzie probabilmente senza l'agenzia su strada, ma farà tutto online, perché avrà imparato a farlo, avrà già, si sarà già strutturata completamente per poterlo fare online. Quindi, diciamo, anche Gateway è nato nel 2008, quindi piena crisi. E quindi ti possiamo capire, però non tutto il male viene per nuocere. Quindi probabilmente, no, possibilmente sei forse messa meglio di altri. Faremo una live di Superstity. se siamo ancora qua, dai. Eh beh, infatti, se supera questo periodo, sicuramente sarà, insomma, bella carrozzata, ecco. È vero. C'è Sandra Praconi, che fa un'osservazione interessante, che dice, lavorai da casa, ha fatto capire quanto è importante avere degli ambienti confortevoli. Penso e mi auguro che quando questo momento sarà finito ci sia un grande interesse. Sandra, sì, in effetti è una riflessione che io sto leggendo tanto, ma anche i colleghi che sono con me, c'è una, insomma, siamo in casa, no, vincolati in ambienti che magari, se vissuti due ore al giorno, è un discorso, vissuti 24 ore al giorno e magari ci fanno riflettere, no, magari sul desiderio di avere una stanza in più o una casa magari più luminosa o addirittura più nuova, tant'è che, insomma, c'è qualcuno che prevede che le nuove costruzioni, insomma, ne beneficeranno proprio di questa permanenza forzata nelle vecchie costruzioni, ecco, quindi, insomma, staremo a vedere. Max Russo. I bavagliati legati al termosifone per fare questa diretta, ma non lo dico. Ecco, ecco, va bene, va bene. Non vi do l'iPad fino alle due e mezza. Quindi, insomma, device e connessioni web, internet, sono assolutamente, insomma, precluse ai minori in questo momento. Allora, Max Russo, questa volta ci sarà una reale selezione tra gli operatori immobiliari e alla fine di tutto questo il mondo sarà cambiato, bisogna sfruttare questo periodo di stallo per evolvere o non fare nulla ed estinguersi. beh, assolutamente, assolutamente sì, come dice anche Adriano Caldiero, è studiare tanto. Quindi sì, quindi aggiornamento, prendiamo una palla al balzo veramente per dare il meglio di noi e lavorare sulle nostre migliori qualità per farci trovare pronti. Allora, arriviamo invece a una cosa interessante, cioè a cosa le aziende del digitale nel settore immobiliare stanno facendo per gli agenti immobiliari, perché poi è importante in qualche modo cominciare a dare, no? Per quanto loro già stiano dando e facendo, però magari un piccolo segnale di solidarietà nei confronti della categoria credo che sia sempre ben accetto. Quindi, partiamo da Babbo Natale numero uno, massimiliamo pochetti. Allora, non so perché il Babbo Natale forse è stato confuso con la maglietta. Esatto, esatto. Vedi? Vedi? Allora, noi siamo impegnati su vari fronti. Allora, il primo, chiaramente, ricordo insomma tutti quanti noi abbiamo un accesso ai nostri servizi in maniera completamente gratuita. Anche una gente immobiliare che ci sta guardando facendo casashare.it può scaricare la nostra app sullo smartphone in assoluta gratuità e può utilizzare i nostri strumenti in maniera chiaramente limitata in questo momento senza nessun impegno economico. Quindi, poter fare quelle attività di cui dicevo prima senza dover spendere nulla. Per tutti i nostri registrati nel mese di marzo abbiamo peraltro regalato già a tutti i free di marzo l'utilizzo praticamente del servizio premium a pagamento fino alla fine appunto di marzo. è già in essere questa promozione quindi l'abbiamo fatta già automaticamente. Inoltre sui nostri già clienti che già ci conoscono e sono con noi ricordo noi siamo circa ormai 6.700 in applicazione in tutta Italia riescono praticamente ad ottenere anche delle promo in questo momento perché non ci dimentichiamo che è molto importante è molto importante fare dettagli perché dove si può risparmiare si deve risparmiare però io ribadisco sempre attenzione perché non dobbiamo dobbiamo preoccuparci di non morire di un virus ma ricordiamoci che poi non bisogna morire di fame quindi cerchiamo di trovare il giusto equilibrio e cercare di avere a disposizione tutti quegli strumenti che ci consentono in questo momento di fare queste attività la promo che abbiamo in essere Gerardo in questo momento è che lanceremo diciamo a giorni anche in occasione di questa live ne parlavamo è un'altra promozione ancora continuativa per i nostri già clienti quindi daremo delle opportunità importanti e molto probabilmente per tutti coloro che scaricheranno la versione freemium anche durante aprile regaleremo praticamente l'accesso al premium senza pagare niente per un altro mese fino alla fine di aprile quindi continueremo a sostenere la massima operatività venendo incontro a quelli che sono che sono le esigenze dei professionisti ottimo bene grazie eventualmente vi chiedo poi di inserire nei commenti magari un link anche dove poter accedere a questo tipo di promozione entrare in contatto in modo tale insomma che tutto avvenga in modo molto fluido Federico Pagliuca Air Realtor firma digitale diciamo che noi oggi in questo momento siamo veramente il servizio core per gli agenti immobiliari perché essendo a casa essendo bloccati sicuramente gestire un'operatività totalmente in digitale come la nostra può sicuramente aiutarli ricordo che noi appunto forniamo servizio di creazione di sottoscrizione dei contratti immobiliari totalmente in digitale e totalmente anche in remoto quindi se c'è la necessità di andare a fare una gestione di un portafoglio con dei ribassi quindi nuovi incarichi contratti preliminari proposti noi possiamo assolutamente codiuvare l'agente immobiliare offrendo proprio il nostro strumento e in questo momento quindi quello che vogliamo fare anche a sostegno sempre di più degli agenti immobiliari è quello di poterli aiutare in anche quelle attività accessorie che ci sono sono adempiementi assolutamente obbligatori che però vista la situazione sono difficilmente sono difficilmente ottemperabili ecco ad esempio la registrazione di una proposta ad esempio la registrazione di un contratto o di un preliminare quindi quello che noi abbiamo pensato è che per tutti quelli che si si dovessero abbonare alla nostra app in questo periodo di covid o anche già per tutti i nostri abbonati forniamo la possibilità di registrazione dei contratti che siano proposti o che siano preliminari totalmente a distanza e totalmente appunto in digitale quindi questo penso che possa essere sicuramente un servizio a sostegno degli agenti per non stoppare l'operatività quindi continuate a creare sottoscrivere i contratti e vi posso dire che abbiamo dei numeri interessanti in questo perché ci sono colleghi nostri colleghi nostri clienti che hanno veramente anche in questo momento e lo dico anche come incoraggiamento per quelli che magari vedono tutto nero stanno continuando a sottoscrivere i contratti e per contratti intendo prettamente preliminari quindi trattative che magari devono concludere che non avrebbero concluso quindi di conseguenza incassano anche le provvigioni e quindi non si stoppa l'operatività non si stoppa il fatturato o non si azzera il fatturato e quindi sicuramente può essere un strumento adatto e di conseguenza essere coagliuvati con tutti quegli adempimenti necessari che impone l'agenzia delle entrate lo possiamo gestire noi senza problemi totalmente remoto ecco bene grazie anche a te Federico Simone Rossi sì allora noi per tutti diciamo chi non è nostro cliente che quindi vorrebbe intraprendersi vuole intraprendere l'avventura del mercato estero stiamo proprio in questi giorni offrendo tutti gli abbonamenti al 50% di sconto in più regaliamo due mesi sull'abbonamento quindi diciamo che aiutiamo a traghettare questi due mesi per chi invece è già cliente abbiamo già caricato noi nella cassa omararia e chi è nostro cliente lo sa nella propria area clienti c'è una fidelity card quindi la possibilità di man mano che si acquistano prodotti di caricare dei bonus dei credit che poi si possono utilizzare ecco abbiamo già caricato 300 euro di crediti a tutte le agenzie che sono nostri clienti quindi per poter insomma aiutarli a fare comunque delle azioni di visibilità che sono importanti che comunque dobbiamo far capire che nonostante il periodo ci siamo perché appunto come dicevo prima molti stranieri ce lo chiedono noi quando mandiamo la nostra newsletter di stranieri in questi giorni ci stanno rispondendo tantissimi chiedendo per favore continuate a farlo quindi è importante esserci certo noi tutte le comunicazioni le facciamo anche grazie ai contenuti che creiamo insieme alle agenzie immobili eccetera quindi è importante esserci è importante comunicare quindi 300 euro a tutti quanti in più insomma accogliamo a braccia aperte le richieste delle agenzie quelli che hanno contratti in scadenza rinnovi in questo periodo cerchiamo di venire incontro a a tutte le esigenze non c'è una diciamo una cosa standard per tutti perché ognuno ha le proprie esigenze però insomma sentiamoci rimaniamo in contatto e cerchiamo di trovare una soluzione insieme ci veniamo incontro e vediamo insomma quello che si può fare per poter affrontare assieme questo periodo ecco è importante se noi non vogliamo che si fermi tutto dobbiamo essere noi i primi a non fermarci quindi è importante andare avanti se tutti quanti andiamo avanti facciamo la nostra piccola parte non si fermerà assolutamente niente se iniziamo a fermarci tutti è ovvio che prima o poi si fermerà tutto certo grazie Simone qui insomma ti sei dato la pazza gioia proprio soldi da elicottero va bene va bene l'elicottero non ce lo possiamo permettere c'è una riflessione allora vediamo un attimo una piccola riflessione anzi c'è un racconto positivo da Ilaria Meani che dice noi come agenzia immobiliare abbiamo dato la possibilità di registrare gratuitamente i contratti di locazione e che c'è stato insomma un certo tipo di ritorno questo sì diciamo che un esempio pratico di come poter stare vicino in qualche modo ai propri clienti salutiamo Sabrina Borrelli che ringrazia Massimiliano dice in questo momento saranno gesti di questo tipo atteggiamento givers bravi ok cosa importante una riflessione prima di chiudere Francesco Morabito dice Gerardo anzi la mettiamo in sovraimpressione dice e le agenzie su strada tutto sarà come prima guarda su questo c'è da riflettere perché perché con la crisi del 2008 parlando con un imprenditore del franchising mi disse proprio guarda crisi finanziale crisi immobiliare ma è entrato in crisi il modello agenziale no e lì ho detto caspita giusto una riflessione appropriata io credo che questa esperienza che stiamo vivendo oggi in qualche modo darà un po' una spallata definitiva all'agenzia immobiliare classica nel senso che non ci saranno più agenzie su strada ma sicuramente i meno attrezzati quelli con con meno cassa ecco se vogliamo dirla così probabilmente potrebbe essere che vadano a confluire in strutture che magari sono più grandi e quindi in strutture dove magari ci sono altri 20 30 40 agenti immobiliari e dove c'è di fatto un servizio una brokerage che in qualche modo fornisce loro strumenti a supporto burocratici di marketing non è uno scandalo negli Stati Uniti sta andando fortissimo questo tipo di di hub di servizi e quindi insomma credo che questo tipo di emergenza oggi possa in qualche modo delineare anche un cambio di scenario su questo fronte voi cosa ne dite? chi parte? chi vuole è coraggioso posso partire io? allora io penso che nulla sarà come prima e questo non necessariamente anzi visto come era prima soprattutto a livello del livello digitale del insomma del mercato immobiliare ma anche di tutti i settori in Italia sicuramente non è una cosa negativa il fatto che non sarà più nulla sarà più come prima quindi sì cambieranno delle dinamiche come dicevamo anche prima del caso di Isabella sicuramente ne usciremo tutti quanti anche noi che comunque siamo un portale internet quindi siamo nati su internet siamo nati nel digitale e utilizziamo gli strumenti di digitale tutti i santi giorni per colpa di questo di questa situazione o grazie a questa situazione stiamo scoprendo un sacco di strumenti in più un sacco di possibilità in più che prima non ne avevamo le necessità e quindi non stavamo a cercare quindi se siamo in grado di imparare noi vabbè non mi voglio anzi con tutta l'umità però voglio dire che bene o male il digitale lo utilizziamo tutti i santi giorni figuriamoci comunque delle persone che stanno molto su strada e quindi hanno avuto molta meno necessità di utilizzare il digitale in questi giorni acquisireanno un sacco di esperienza che sicuramente non la butteranno nel cestino una volta finito e anzi scopriranno che sarà molto più comodo fare molte cose con questo sistema con strumenti digitali e quindi molte delle vecchie metodologie analogiche eccetera spariranno e questo sarà sicuramente un bene per tutti Massimiliano cosa dici allora io sono d'accordo con voi sull'aspetto chiaramente che nulla potrà essere come prima soprattutto avremo sicuramente tante persone che hanno finalmente conosciuto Skype e Company e avremo la maggior parte della popolazione sarà veramente sarà veramente formata sotto questo sotto questo aspetto mentre parlava di questo stavo pensando al compleanno che devo organizzare per la mia bambina e quindi mi era venuta qualche idea in mente nel mentre sono d'accordissimo con voi che ci saranno dei grandi cambiamenti però il cambiamento che dice Gerardo io lo auspico anzi è proprio quello naturale nel senso che ambienti diciamo dove possano esserci appunto di co-working e di agenti immobiliari ormai il tempo è maturo nel senso che comunque la vedo benissimo anche perché ci stiamo molto spostando sul rapporto personale sposiamo il professionista che ci segue il suo modo di lavorare e quindi siamo molto più focalizzati su questo sapete che cosa invece noto questo magari lo dico così poi magari non siete d'accordo però noto che c'è veramente tanta tanta esigenza di progetti e di metodologie che abbraccino il digitale da portare agli agenti immobiliari cioè se guardo oggi con tutto rispetto chiaramente di chi lavora e di chi fa brand e chi fa franchising e tutto il resto in questo momento insomma escono un po' fuori anche un po' tutte le lacune di tutte le mancate iniziative e i mancati esperimenti che si potevano fare negli anni e nel tempo che in altri paesi sono stati fatti e quindi molto probabilmente secondo me ci sarà un'esigenza una richiesta da parte del professionista a terra di ricevere dal proprio marchio o anche dal proprio sistema in cui lui si riconosce qualcosina in più per poter affrontare il mercato in maniera in maniera diciamo come posso dire da protagonista sì secondo me è il termine più giusto sì sì ci sta Federico cosa dice? ma io guarda tornando sempre al discorso dell'agenzia su strada tornando a quel che è il co-working da sempre sono appassionato di modelli di business americani e gli americani hanno sempre dimostrato di essere sempre un passo avanti cioè ciò che quando cambiava il mercato quando c'erano nuove iniziative ora mentre parlavate tutti io ho pensato a un brand americano che si chiama Compass Compass è una bellissima realtà io ho dei amici che sono a New York che lavorano da poco anche in Compass hanno un feedback veramente veramente positivo perché esposa questa metodologia una metodologia del gruppo che condivide un obiettivo comune può raggiungere l'impossibile che è una frase che secondo me ha veramente molto significato sulla relazione umana e sull'unirsi insieme come agenti immobiliari che possono condividere come diceva prima un utente non ricordo il nome possono condividere strumenti possono condividere esperienze e quindi anche Sabrina e possono anche ciao Sabrina e possono anche condividere risultati e possono anche motivarsi a vicenda o possono supportarsi e supportarsi nei momenti difficili no? Quante volte abbiamo dei momenti di up e dei momenti di down e se sono da solo se sono da solo nella mia agenzia su strada o se sono da solo nella mia agenzia in un ufficio al quarto piano sarà sicuramente più difficile invece di stare in un bel gruppo un gruppo unito che mi potrà comunque aiutare e incoraggiare anche nei momenti un po' più difficili quindi ripeto studiamo un po' di più anche le metodologie americane i modelli di business perché ci hanno sempre insegnato qualcosa e anche in questo momento anche in questa situazione ci possono trarre qualche spunto interessante per la nostra professionalità e per il nostro business Sì, concordo con te Federico su questo peraltro giovedì prossimo cioè dopo domani alle due e mezza Riccardo Ravasini che è un agente immobiliare di New York lui peraltro lavora in Compass e quindi insomma saprà assolutamente raccontarci come si sono organizzati io l'ho sentito già una settimana fa in cui le cose erano ancora un po' in definizione e insomma la situazione è diventata i Compass stanno facendo una strage positiva perché è un reclutamento incredibile perché riescono a unire l'efficienza di un'economia di scala arrivando a degli strumenti che non si potrebbero non potrebbe arrivarci chiunque quindi in termini di marketing in termini di strumenti digitali in termini di operatività in termini di formazione scusatemi se faccio questo inciso ma è troppo importante in questo momento dove magari le attività sono un po' più ridotte un invito che faccio è ogni persona ha un valore concentriamoci sul nostro valore cresciamo come persone perché la crescita professionale passa per forza da una crescita personale quindi concentriamoci sui valori che tutti abbiamo focalizziamoli studiamo meditiamo e sicuramente potremo veramente accrescere le nostre competenze le nostre consapevolezze di noi stessi e quindi essere poi di contributo anche per gli altri perché se siamo in un team non dobbiamo solo ricevere ma dobbiamo anche dare e se riusciamo a crescere come persone potremmo dare il nostro know-how personale anche agli altri sei il sacerdote della collaborazione Federico complimenti assolutamente secondo me il gerato con la camicia chiusa è un collettivo un collarino si 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 ci potrebbe stare guarda sono d'accordo con quello che dicevi prima Massimiliano anche sulle reti in franchising credo che tanti nodi verranno al pettine credo che ci sarà spazio per tanto reclutamento nei prossimi mesi e che insomma le situazioni di crisi in qualche modo evidenziano le criticità di alcuni modelli aggregativi quindi questo sarà da rivedere e evidentemente anzi sono certo che insomma nel mercato che vivremo a brevissimo spazio la collaborazione qualificata questo una volta in più valore della consulenza quindi non facciamoci spaventare cioè lavoreremo tanto online ci saranno tante agenzie e modelli digitali ibride e quant'altro ma il valore della consulenza è importante facciamo rete tra di noi come ci ha scritto anche Massimiliano Russo in un commento quindi insomma cerchiamo di qualificarci qualificare il lavoro che facciamo scegliamo dei compagni di strada di cammino che siano compatibili con i nostri valori soprattutto perché dobbiamo piacerci anche per per collaborare fissiamo degli standard operativi gli strumenti digitali ci sono e sono straordinari analisi di mercato firma digitale uno sguardo portali visibilità all'estero abbiamo tutto quello che ci serve visite virtuali e tutto quello che vi viene in mente quindi insomma da fare ce n'è si tratta proprio di razionalizzare il tutto in un processo in un metodo per continuare ad avere senso nel mercato di oggi ma soprattutto in quello in quello che verrà Gerardo io la preghiera veramente che mi auguro che faccio a tutti anche tu la preghiera è quella che quando finirà e finirà a breve ormai io dico sempre così finirà a brevissimo non so quanto riusciranno a tenerci in casa ancora non so se ce la faranno e siccome che finirà a breve io spero che veramente i professionisti mettano la stessa enfasi che hanno messo in questi giorni nei vari gruppi social nelle varie discussioni nel chiedere ai fornitori in questo caso perché noi siamo in questo caso fornitori portali strumenti quindi la stessa enfasi che hanno messo nel chiedere supporto in questa fase a tutti la mettano domani anche nel chiedere in generale per poter per poter appunto abbracciare uno stile diciamo moderno e avere tutti gli strumenti per far sì che quando poi ritornino circostanze di questo tipo che ci auguriamo non torino mai ovviamente però che ci metteranno le condizioni di affrontare tutte le fasi del mercato e quindi come hai detto tu i nodi verranno al peggine però la speranza è che gli agenti immobiliari non si dimentichino facilmente di questa cosa che è fondamentale molto bene allora noi abbiamo come al solito sforato con i tempi ma insomma non ci caccia via nessuno sono rimasti collegati e fedeli fino all'ultimo quindi insomma ringrazio Simone Rossi Gateway Federico Pagliuca ai rialtori Massimiliano Pochetti di Casa Share per il loro contributo preziosissimo ringrazio voi tutti per insomma essere costanti fedeli e partecipativi vi aspetto quindi dopo domani sempre qui e insomma teniamo duro soprattutto restiamo produttivi d'accordo? Un saluto assolutamente assolutamente grazie ciao 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 Grazie.